Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un film particolare. Oggi vi parlerò del film Netflix 2021 su Yara Gambirasio, il caso di cronaca che nel 2011 sconvolse l'intera Italia, la scomparsa di Yara, ragazzina di 13 anni, a Brembate di Sopra, provincia di Bergamo. Di cui è stato accusato, dopo il ritrovamento del cadavere della piccola Yara, Massimo Bossetti, adesso condannato all'ergastolo. Ma non voglio parlare del caso di cronaca perché ci sono tante varie sfumature e non mi interessa affrontarle in questo video. Io voglio parlare del film. Il film è interpretato dal punto di vista della PM che si occupò delle indagini, la dottoressa Ruggeri, interpretata da Isabella Ragonese, che io non conoscevo come attrice. Devo dire che per il ruolo che fa è abbastanza brava. Il problema reale di questo film è sicuramente il fatto che sia molto frettoloso. Ora, io non ho seguito molto bene il caso di cronaca, non sapevo molte cose e non sapevo il fatto del DNA. Quindi che avessero preso il DNA di tutto il paese, prima di Brembate e poi di un altro paese, dopo aver appunto trovato l'ignoto 1, quindi il DNA sconosciuto, sugli indumenti della piccola Yara. Quindi non sapevo tutta questa cosa del DNA, che sarà quella forma che ha rivoluzionato il sistema giudiziario italiano. È una parte molto importante del caso di Yara. Quindi questa prima parte, appunto, in cui l'analisi del DNA, la decisione della PM Ruggeri, che va contro tutto e tutti, in un paese rimasto molto indietro rispetto agli Stati Uniti, da questo punto di vista, è stato buttato lì per dieci minuti circa. E questa cosa non mi è piaciuta. Io ho aperto il film sapendo pochissimo del caso di Yara. Veramente pochissimo. E quando ho finito il film, sapevo le stesse identiche cose, perché il film è molto frettoloso. In un'ora e trenta raccontano una storia, una vicenda che è andata avanti per anni. Cioè, quindi, voglio dire, in questo caso, magari, era più adatta a una serie TV, proprio per parlare di tutti i contenuti, soprattutto quello della faccenda del DNA, che è molto importante, perché, appunto, come dicevo prima, ha rivoluzionato il sistema giudiziario. Il film è d'ora un'ora e trentacinque, potete vederlo tranquillamente su Netflix, in modo gratuito, se avete l'abbonamento. Ma passiamo al secondo punto, che non mi ha quadrato. Dopo la frettolosità del, appunto, da rappresentare in scena la parte relativa alla ricerca del DNA molto importante, questo film è vero che dal punto di vista della PM Ruggeri, ma, santo Dio, vogliamo anche ricordare un po' Yara, che è stata la vittima di questa storia. Era una ragazzina di tredici anni, nel film si dice pochissimo di lei, sembra quasi una comparsa. Il film si intitola Yara. Allora, se non volevate parlare di Yara, intitolatelo il caso Gambirasio, cioè, se volete parlare del caso, cosa che poi non avete neanche fatto, perché avete proprio sciroppato quella cosa sul DNA, che andava almeno soltanto un'ora di film solo per quello, non mi presentate neanche Yara, soltanto alcune frasi scritte sul diario di Yara e alcune comparse dell'attrice, interpretata da... comparse di Yara, interpretata dall'attrice Chiara Boni. Dal tonde è stato molto criticato il fatto che lei non aveva un accento bergamasco, voglio sottolineare che l'accento bergamasco è molto, molto complesso, quindi, ovviamente, un'attrice così giovane avrà fatto un po' fatica, comunque, l'accento bergamasco è molto simile comunque a un accento straniero, e su questo voglio puntualizzare l'attore che ha interpretato Bossetti. Io voglio... capisco che il bergamasco è un dialetto particolare, ma l'attore che ha interpretato Bossetti non sembra italiano, e magari non lo è, ma ragazzi, cioè, non sembra, non si capisce nulla di quello che dica, e... quindi, non mi è piaciuta neanche questa cosa. Yara non è stata presentata assolutamente per nulla, e questo mi ha fatto molto male, perché lei è la vera protagonista di tutto questo. È vero che c'è stata una rivoluzione dal punto di vista del DNA e tutto quanto, però è Yara la protagonista di questo, quindi anche per i genitori che magari avranno visto il film, ricordare un attimino di più la figlia mi sarebbe... sembrato giusto, ecco. Poi, un'altra cosa che invece mi è piaciuta è che sono stati molto, ma molto, diciamo, lontani, non si sono addentrati nel fatto che Bossetti fosse colpevole o non colpevole, non hanno fatto tanti giri di parole, ma hanno semplicemente rappresentato i fatti di quello che era successo al processo. Anche al processo, insomma, è durato dieci minuti all'interno del film, e dal tono il film finisce otto minuti prima della data giusta, quindi non dura neanche un'ora e trentasei, ma dura un'ora e trentuno, anzi anche meno, un'ora e ventinove, è qualcosa di assurdo, una faccenda così importante che ha rivoluzionato il sistema giudiziario che parla di una ragazzina, di una ragazzina di soli tredici anni che è stata uccisa a settecento metri da casa, voi in un'ora e ventinove mi buttate tutto lì, no, è assurdo. Mi è piaciuto il fatto che non fosse tanto, non andasse a giudicare, né colpevoli, né innocenti, perché comunque si è limitato ai fatti del processo, ma insomma, andrebbe, doveva essere sviscerato per un pochettino più. Insomma, il film mi è sembrato molto che avesse fretta di finire, questo no, non mi è piaciuto molto, non è stato rispettoso nei confronti della famiglia di Yara, a mio parere, ma devo dire che per alcuni merci, invece, il fatto che siano stati molto, ma molto pacati, nel senso che non si siano addentrati a romanzare la cosa, quindi, abbiano riportato i fatti, invece, mi è piaciuto, e mi è piaciuto anche farlo dal punto di vista della PM Ruggeri, mi è piaciuto, perché lei aveva comunque una pressione incredibile, oltre a doversi occupare della figlia, doveva occuparsi della scomparsa di una ragazzina che aveva l'età della figlia, quindi, mi è piaciuto il fatto di questo personaggio, mi è piaciuto come l'ha interpretato la Ruggeri, scusate, l'aragonese, è stata bravissima, il film, secondo me, merita, ma doveva essere più lungo, si doveva dare anche più spazio alla figura di Yara. Voto da 1 a 10, 6.